Oggi solo è andato la battuta, il resto non abbiamo fatto una buona partita, abbiamo agevolato il lavoro loro, anche con una buona battuta, anche con loro che ricevevano il saccata, non siamo riusciti a tenere a muro, a difendere e anche il cambio di palla, quindi è stata una brutta partita nostra sicuramente, noi siamo sereni comunque perché ci stiamo mettendo tutto in allenamento e anche nelle partite per migliorare se ogni giorno una migliore squadra, certe volte non riusciamo, non va come vogliamo, quindi ci alleneremo di più, ci sforzeremo di più per fare meglio, però siamo sereni anche con la sconfitta, non ci piace la partita di oggi, la prestazione di oggi, dobbiamo migliorare per competere con questa squadra ma anche con le altre, basta.